Castro! Castro! Nella finale della FA Cup contro Liverpool! La sblocca! Esattamente il secondo tempo, prima tempo finita 0-0, questo è il secondo tempo, il sessantesimo, Castro a prima marcatura! Ora, questa qui è l'ennesima parte della stagione con l'Arsenal, comunque è un tor di parte, la quinta o la sesta mi sembra, o la quinta o la sesta, comunque il campionato l'ho perso di un punto e l'ha vinto il Liverpool, e questa è la finale della FA Cup contro il Liverpool! Ma dove? Adesso, sta vincendo, sta vincendo! Dove? Un gran gol di Castro! Nell'angolino basso! Si porta in vantaggio, si porta in vantaggio, si porta in vantaggio, il grande destro di Robert! Castro, ex-bet Siviglia, a Miramo da qua giù, che bomba! Guarda! È un gran giocatore, è un gran giocatore, è vero consiglio! Che bomba! Che gollasso! Guarda qui! Pulp! Perciò, sono in vantaggio, non c'è un cambio, sono in vantaggio contro il Liverpool! E ora, sto qui! Un saluto da Robert Martin1999 del Liverpool!